buongiorno buongiorno a tutti come editore responsabile direttore della pagina del blog il brigante news siamo vicini alla al periodo della auguri buon anno e altrettanto altre famiglie si è bellissimo è bellissimo scambiarsi gli auguri perché ci si vuole bene anche con un po di ipocrisia chi ti vuole male ti manda gli auguri chissà pezza forse l'ho fatta franca ma quello che voglio dirvi è solo una cosa sono un po stanco di della formalità scritta fredda poi grazie a questo covid non possiamo neanche più incontrarci allora a questo punto approfitto della tecnologia per sentirvi più vicino e quindi voglio augurarvi un felicissimo calorosissimo augurio di un natale bellissimo capodanno e soprattutto di un bellissimo anno nuovo insieme anche alla mia bechi e a tutta la famiglia arena arrivederci a tutti a tutti ciao ciao Grazie a tutti.